Il lavoro, tema centrale del tradizionale messaggio di Natale del Vescovo alla città, Monsignor Agostinelli chiede ai pratesi di non perdere la speranza e li esorta a resistere alla crisi che non accenna a diminuire, che produce sofferenza ma che non deve vincere. Non possiamo arrenderci, perché arrenderci significherebbe dare corpo alla crisi in maniera irrefrenabile e irreparabile. Io credo che al di là delle difficoltà oggettive dobbiamo stringere pugni, come sol dirci, non fermarsi, fare riferimento a tutte le risorse di cui possiamo disporre, risorse umane, spirituali, psicologiche, culturali, politiche. Richiamando le parole di Papa Francesco, che ha parlato di schiavitù e ha rivolto un pensiero anche agli schiavi del lavoro. Anche fra di noi si può parlare di schiavitù, perché laddove non vengono riconosciuti i diritti dei lavoratori e le ore del lavoro sono esorbitanti, i trattamenti sono forse al di là di quelle che sono le norme più semplici, umane, eccetera. Allora si può parlare di schiavitù e anche da questo punto di vista credo noi non possiamo dirci che se ne siamo fuori. Anche a Prato esiste questa schiavitù. Santo Stefano, patrono della città, deve essere la luce di una ritrovata forza tipica dei pratesi. Io vorrei invitare l'ottimismo e vorrei invitare l'ottimismo non perché è giusto farlo, ma perché i pratesi io credo che abbiano anche le risorse umane, psicologiche, storiche per potersi riprendere. Infine la denuncia, la corruzione dilagante che allontana i giovani dall'impegno politico impoverendo la società. Siamo scandalizzati, vorrei dire, di questa corruzione dilagante che oggi c'è come prima, anzi peggio di prima e che allontana, vorrei dire, tanta gente, i giovani nella fattispecie da guardare con fiducia, vorrei dire, anche l'impegno politico. Diceva Paolo VI che la politica è la forma moderna della carità perché è interessarsi della polis, è interessarsi vivere la prossimità, è interessarsi degli altri, di chi non ha, di chi non può e così via. E questo tante volte ci allontana quello che avvediamo, però al di là di tutto questo e a dispetto di tutto questo dobbiamo veramente andare avanti, dobbiamo non scoraggiarsi e non fermarsi.